ciao ragazzi calendario royal beauty smalti 23 dicembre abbiamo questo smaltino qua questo è uno smalto rosso allora ha delle perlescenze rosse però il colore striato quindi facciamo la seconda passata la seconda passata è molto meglio come potete ben vedere vedete il micro glitter bello e bello e con questo è tutto ciao domani con il 24 l'ultimo smalto ok ciao ciao